Allora, si chiama Non morirò di fame e sarà proiettato giovedì alle 18. Insomma, è un film che affronta una tematica importante, che quindi vede anche il comune che organizza insieme alla sezione soci della COP. Allora, sì, questo film è Non morirò di fame. Tratta soprattutto degli sprechi alimentari e dell'inclusione sociale. Lo sprechi alimentare, lei capisce che è aspetto fondamentale. Perché? Perché alcune attività commerciali si mettono a disposizione là dove, non so, il vapoforno e a mezzogiorno rimane il pane, anziché buttarlo, viene poi utilizzato per quelle persone che non hanno neanche il pane sul tavolo. Perché già altre volte ho comunicato proprio che abbiamo un disagio sociale notevole e quindi, cioè, associazioni che si occupano di questa cosa, come qui ringrazio anche Roberto Pettiruti, La Croce Rossa, perché già si è attivata a questa bella iniziativa degli sprechi alimentari e infatti proprio dopo il film ci sarà un piccolo buffet dove sul tavolo ci saranno proprio dei prodotti e degli sprechi alimentari. Non morirò di fame è un film che tratta in maniera, diciamo, vogliamo dire leggera l'argomento dello spreco alimentare. La storia di uno chef che cade in disgrazia e quindi, rovistando, diciamo, nell'immondizia, crea poi dei piatti con questi alimenti. Però non vorrei aggiungere altro per non togliere un po' di suspense senza il film di chi verrà a vederlo. Ci tengo a sottolineare che però, ecco, c'è anche una storia tra padre e figlio, diciamo, è una storia, diciamo, articolata su più piani sentimentali. Quindi invito tutti a partecipare. L'entrata è libera, quindi non c'è nulla da pagare. A seguire ci sarà appunto questo piccolo ristoro e vi aspetto numerosi soci e non soci. Unicopi di Rino in tutti i suoi negozi devolve poi a un Ollus il cibo, diciamo, che andrebbe in scadenza o che magari presenta magari una maccatura nella scatola. Quest'anno, nel 2022, noi abbiamo dato, cioè che abbiamo il ponte come Ollus di riferimento, abbiamo dato 47 mila euro di, diciamo, di derrate alimentari che sarebbero comunque andate perse. A Croce Rossa, il nostro comitato in particolare, si occupa da tempo di recupero alimentare inserendosi proprio in un cerchio tra il recupero alimentare, la preparazione del pasto e la distribuzione dello stesso poi alle famiglie e alle persone che sono in condizioni di indigenza, che su Civita Vecchia sono tante. Nella parte iniziale della serata, prima del film, ci sarà la presentazione di un nostro progetto che a livello nazionale a cui teniamo molto, che è proprio un progetto che riguarda il contrasto allo spreco alimentare, si chiama Non Buttiamo la Via.